tuttavia visto che non potevo fare altro che bussare bussai e dall'interno mi fu detto di entrare entrai dunque mi trovai in una stanza discretamente spaziosa ben illuminata da candele di cera non vi filtrava neanche il più lieve bagliore di luce esterna era uno spogliatoio a giudicare dall'arredamento anche se forme e usi di gran parte della mobilia mi erano a quel tempo sconosciuti su tutto spiccava un tavolo coperto da un drappo sormontato da uno specchio con la cornice dorata così compresi che si trattava della toletta di una signora e forse la riconobbi proprio perché vi era seduta una bella signora la più strana signora che io abbia mai visto o che possa mai vedere era seduta in una poltrona col gomito appoggiato al tavolo e la testa posata sulla mano era vestita di tessuti preziosi saten pizzo seta tutta in bianco anche le scarpe erano bianche un lungo velo bianco le scendeva dai capelli e vi erano fiori nuziali tra i capelli ma i suoi capelli erano tutti bianchi gioielli scintillanti brillavano sul collo e sulle mani e altri sul tavolo vestiti meno sforzosi di quello che indossava erano sparpagliati per la stanza e vi erano dei bauli riempiti a metà non aveva terminato di vestirsi poiché aveva una scarpa sola l'altra era sul tavolo vicino alla mano il velo non era sistemato a dovere orologio e catena giacevano accanto allo specchio ammocchiati in disordine insieme a un merletto da portare sul seno al fazzoletto ai guanti a un libro di preghiere e a qualche fiore tutto questo non lo vidi nei primi istanti anche se colsi più di quanto si possa supporre vidi comunque che tutto ciò che si offriva al mio sguardo e che sarebbe dovuto essere bianco lo era stato in un tempo lontano ma aveva perduto la freschezza diventando opaco e giallo vedi che la sposa nell'abito nuziale era avvizzita come l'abito e come i fiori di vivo le erano rimasti solo gli occhi infossati capì che quell'abito era stato fatto per la morbida figura di una donna giovane e che il corpo su cui ora pendeva era ridotto a pelle e ossa una volta mi avevano portato alla fiera a vedere una spettrale statua di cera raffigurante non so che sconosciuto personaggio su un catafalco vestito in abiti di gala un'altra volta mi avevano portato in una delle nostre vecchie chiese di palude a vedere uno scheletro coperto da brandelli di ricche vesti disseppellito da una tomba sotto il pavimento in quel momento la figura di cera e lo scheletro sembravano avere occhi scuri che mi guardavano avrei urlato se avessi potuto chi è chiese la signora seduta al tavolo pip signora pip il ragazzo di pamblecook venuto a giocare avvicinati fatti guardare vieni qui fu quando mi trovai in piedi davanti a lei evitando negli occhi che osservai nei particolari gli oggetti intorno e vidi che il suo orologio e quello appeso nella stanza erano fermi alle nove meno venti guardami disse mister viscem non ti fa paura una donna che non ha mai visto il sole da quando sei nato mi spiace confessare che non ebbe affatto paura a dire l'enorme bugia espressa con un no sai cosa sta toccando chiese mettendosi tutte e due le mani sul lato sinistro del petto sì signora mi fece pensare al giovane della palude cosa il cuore spezzato pronunciò la parola con sguardo ardente e forte enfasi con un sorriso strano che conteneva una sorta di vanto per un po tenere mani sul cuore poi lentamente le abbassò come se fossero pesanti sono stanca voglio distrazioni ho chiuso con uomini e donne gioca penso che anche il mio lettore più esigente dovrà riconoscere che un povero ragazzo in una situazione simile non poteva chiedere nulla al mondo di più difficile da eseguire certe volte ho delle strane fantasie e adesso voglio di vedere giocare qualcuno su su mi stia agitando con impazienza le dita della mano destra gioca 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 per un momento pensando terrorizzato a mia sorella pensai disperato di scorrazzare per la stanza imitando il calesse del signor pambenshuk ma non sentendomi all'altezza rinunciai e rimasi a guardare miss evisham con un'aria che dovette sembrarle cocciuta visto che dopo essersi guardati per un po disse sei un musone e un ostinato no signora mi dispiace tanto per voi mi dispiace proprio tanto di non riuscire a giocare lo farai se potessi perché se non siete contenta di me finirò nei pasticci con mia sorella ma qui è tutto così nuovo e così strano e così bello e malinconico mi fermai per timore di dire troppo o di aver già detto troppo e ci guardammo di nuovo prima di riprendere il discorso distolse gli occhi da me e guardò il vestito che indossava la toletta e infine la propria immagine nello specchio così nuovo per lui sussurrò e così vecchio per me così strano per lui e così familiare per me così malinconico per entrambi chiama estella poiché continuava a guardarsi allo specchio pensai che stesse parlando tra sé e non feci nulla chiama estella ripete folgorandomi con lo sguardo questo almeno lo puoi fare chiama estella dalla porta trovarmi al buio in una casa sconosciuta in un corridoio carico di mistero urlando estella a una ragazza sprezzante che non si faceva né vedere né sentire con la consapevolezza di prendermi una grave libertà mi risulta penoso quasi quanto giocare a comando alla fine rispose e la sua luce avanzò nel corridoio buio come una stella miss evisham le fece seno di avvicinarsi e prese un gioiello dal tavolo provando nell'effetto sulla pelle chiara del seno sui morbidi capelli scuri un giorno sarà tuo mia cara e ne farai buon uso voglio vederti giocare a carte con questo ragazzo con questo ragazzo ma è un povero operaio pensai di aver compreso la risposta di miss evisham nonostante fosse inverosimile e allora il cuore poi spezzaglielo lo stesso ma cosa sai giocare ragazzo mi chiese stella col massimo disprezzo solo ruba mazzo signorina e tu ruba glielo disse miss evisham maestella così iniziamo a giocare fu allora che cominciai a capire che nella stanza ogni cosa sarà fermata come gli orologi in un tempo lontano natale che miss evisham posava il gioiello esattamente nel punto in cui si trovava prima mentre stella dava le carte guardai di nuovo la toletta e mi accorsi che la scarpa che vi poggiava bianca un tempo e ormai ingiallita non era mai stata indossata guardai il piede senza scarpa e vedi che la calza di seta bianca un tempo e ormai ingiallita era tutta strappata senza questo fermarsi di ogni cosa senza l'immobile quiete di tutti i palli di oggetti in disuso neanche l'abito da sposa sul corpo cadente sarebbe sembrato tanto simile a una bestia da morto o il lungo velo ad un sudario mentre noi giocavamo a carte se ne stava lì seduta come un cadavere con letrine illegale dell'abito nuziale che parevano di carta sporca allora non sapevo nulla dei corpi sepolti che quando vengono alla luce si riducono in polvere ma in seguito ho pensato spesso che lei aveva quell'aspetto come se alla luce del giorno dovesse diventare polvere questo ragazzo chiama i fanti jacks disse stella con disprezzo prima che finissimo la partita guarda che mani ruvide e che stivali prima d'allora non mi era mai venuto in mente di vergognarmi delle mie mani ma iniziai a considerarle una coppiata davvero mediocre il suo disprezzo nei miei confronti era talmente forte che divenne contagioso e mi disprezzai vinse la partita e toccò a me dare le carte sbagliai come era naturale sapendola in agguato per cogliermi in fallo disse che ero stupido un poveraccio tu di lei non dici niente disse miss evishem osservandoci lei ti offende ma tu a lei non dici niente cosa pensi di lei non voglio dirlo balbettai dimmelo in un orecchio disse miss evishem piegandosi in avanti penso che sia molto superba risposi in un sussurro e poi è molto graziosa e poi che è molto offensiva proprio allora mi stava fissando con uno sguardo carico di repulsione e poi che vorrei andare a casa e non vederla mai più anche se è così graziosa non so se mi va di vederla ancora ma adesso vorrei andare a casa fra poco ci vai disse miss evishem ad alta voce finisci la partita se non fosse stato per quel suo primo strano sorriso avrei quasi pensato che il viso di miss evishem non potesse sorridere aveva un'espressione fissa come tutte le cose intorno a lei e sembrava che nulla potesse mutarla le si era afflosciato il busto incurvando nella figura le si era abbassata la voce ridotta a un sussurro torpido e quieto era come se in tutto anima e corpo dentro e fuori si fosse accasciata sotto il peso di un colpo mortale finì la partita con la stella che vinse tutto gettò le carte sul tavolo dopo averle vinte come se le disprezzasse per averle sottratte a me quando ti faccio tornare disse miss evishem fammi pensare e stavo ricordando che era mercoledì quando mi fermò con la stessa impazienza di prima agitando le dita della mano destra basta basta non ne so niente di giorni della settimana e non ne so niente di settimane dell'anno torna fra sei giorni hai capito sì signora stella accompagnalo giù dagli qualcosa da mangiare e lascia che si guardi un po intorno intanto che mangia va scesi seguendo la candela come l'avevo seguita salendo e lei la mise nel posto dove l'avevamo trovata prima che aprisse la porta laterale avevo istintivamente pensato che dovesse essere notte investito dalla luce del giorno mi sentì disorientato e mi parve di essere rimasto in quella stanza al lume della candela per molte ore non muoverti di qui disse stella e scomparve chiudendosi la porta alle spalle ero solo in cortile e mi guardai le mani ruvide e le scarpe comuni il mio giudizio su quegli accessori non fu favorevole non mi avevano mai grucciato ma lo fecero allora come delle volgari appendici presi la decisione di chiedere a joe perché mai mi avesse insegnato a chiamare jacks quelle figure che si chiamavano fanti rimpiansi il fatto che non avesse avuto un'educazione più signorile perché in quel caso l'avrei avuto anch'io ricomparve portando pane carne e un po di birra poi joe il boccale in terra sulle pietre del cortile e mi allungo pane e carne senza guardarmi trattandomi con arroganza come se fosse un cane caduto in disgrazia e fui così umiliato ferito avvilito oltreggiato adirato dispiaciuto non trovo la parola appropriata alla mia sofferenza sadio quale fosse il suo nome che gli occhi mi si riempirono di lacrime in quell'attimo la ragazza guardandomi si illuminò di gioia fugace per esserne stata la causa questo mi diede la forza di non piangere e di guardarla allora con una sdegnosa scrollata del capo ma con la sensazione mi parve di essere stata troppo sicura di avermi ferito se ne andò quando mi si fu allontanata mi guardai intorno cercando un posto dove nascondere la faccia e mi rintanai dietro un cancello sul viottolo della birreria appoggiai la manica sul muro la faccia sulla manica e piansi mentre piangevo prendevo a calci il muro e mi strappavo i capelli era una reazione necessaria tanta era l'amarezza che provavo talmente acuta la mia pena senza nome i metodi educativi di mia sorella mi avevano reso sensibile nel piccolo mondo di un bambino chiunque sia la persona che lo alleva nulla viene percepito o sentito più acutamente dell'ingiustizia pure se l'ingiustizia di cui è fatto oggetto è piccola anche il bambino è piccolo ed è piccolo il suo mondo il suo cavallo ad ondolo invece in proporzione è grande quanto un cavallo da caccia irlandese sin dall'infanzia avevo sostenuto dentro di me un costante conflitto con l'ingiustizia sin da quando avevo iniziato a parlare avevo capito che mia sorella con le sue imposizioni arbitrarie e violente era ingiusta verso di me e mi ero andato sempre più convincendo che l'allevarmi con le sue mani non le dava il diritto di allevarmi con le sue botte era una certezza che avevo nutrito attraverso punizioni castighi digiuni veglie e altro probabilmente la mia timidezza e vulnerabilità erano dovute alla solitudine e all'abbandono mi liberai per il momento della mia sensibilità ferita ficcandola a calci dentro il muro della birreria e strappandomela a forza dai capelli poi mi spianai il viso passandoci sopra la manica e uscii da dietro il cancello il pane e la carne erano discreti la birra scaldava piacevolmente e presto ritrovai l'umore giusto aspetta o aspetta